Sbandieratori e associazione Voci in Canto Sbandieratori e associazione Voci in Canto uniti per un omaggio natalizio a tutta la cittadinanza con l'evento Musica Bandiere e Voci in Pieve, una performance artistica itinerante che ha unito i talenti per una serata ricca di musica e tradizioni in cui i veri protagonisti sono stati i giovani talenti e retini. È stata un'esperienza bellissima, unire gli sbandieratori con la voce, con il coro in una cornice come la Pieve è stata veramente un'esperienza suggestiva, mi ha fatto molto piacere di aver avuto questa possibilità e di poter far vivere al coro ai ragazzi e anche agli adulti perché questa sera eravamo in formazione grande dai piccolini del Voci Bianche fino al coro dei genitori, dei coristi grandi di poter avviere questa esperienza nuova per noi, non l'avevamo mai fatto e spero che si possa ripetere è stato molto emozionante, è stato un modo diverso per dire Buon Natale a tutti di avere un Natale sereno a tutta la cittadinanza di Arezzo. Un gran finale sulle note di terre d'Arezzo, l'inno del Saracino i giovani cantori del Voci in Canto per l'occasione sono stati infatti accompagnati dal rullo dei tamburi e dallo squilo delle chiarine dei musici dell'associazione Sbandieratori. Grazie a tutti i nostri spettatori